Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo tornati qui con un nuovissimo episodio delle vostre carriere allenatore. Prima di cominciare ragazzi, tante novità, perché oggi si inizia una nuova settimana e ho tante cose da dirvi. La prima è che domenica prossima, ore 10.30, uscirà il primo episodio della nuova carriera allenatore qui sul mio canale, che ci accompagnerà non so fino a dove. Sarà una carriera allenatore particolare, nei prossimi giorni vi darò più informazioni. Vi ricordo di seguirmi su Instagram per questo, riccardo menzolini trattino basso e coach.menzo. Trovate tutti i link in descrizione, mi raccomando, perché anche lì vi darò alcuni spoiler. Inoltre, signori, domenica, ieri, è uscito un nuovo Road to Victory. E quindi, se ancora non l'avete visto, mi raccomando, andatelo a recuperare. Ci tengo tantissimo e lasciate un bel mi piace. Quindi, vedete, video importanti già usciti e un video che uscirà poi domenica prossima, ore 10.30. Molto, molto importante, con la nuova carriera allenatore. Oggi, signori, vediamo qualche vostra carriera e, come avrete letto dal titolo, qualche vostro Road to Victory. Infatti, nelle settimane scorse avevo già visto queste carriere. Ho visto che erano Road to Victory in Danimarca, dove l'ho fatto io e non ve le ho mostrate. Perché, se no, ragazzi, non volevo farvi vedere alcuni spoiler di quello che sarebbe stato il mio Road to Victory. E mi veniva da ridere, sinceramente, a vederli. Partiamo subito con il Road to Victory di Albi Juve18. Che mi manda la sua carriera allenatore con il Nordgelland. Ho comprato soltanto calciatore danese, quindi è un Road to Victory. Un'altra informazione, nel 2023 abbiamo perso una finale di Champions contro l'attacco. Poi nel 2026 siamo riusciti a fare il triplete. Un grande saluto. E quindi questo è il primo Road to Victory con il Nordgelland, una delle squadre un pochettino, forse, più attrezzate nel campionato danese. I playoff li si è portati a casa in scioltezza. Andiamo a vedere la formazione titolare. Vediamo quanto si riscosta dalla mia. Abbiamo un 4-4-2 a rombo, più o meno. 4-1-3-2, si potrebbe chiamare così. Abbiamo Jensen, Poulsen, Jensen, Maxo, Mahel, Christensen, Andersen, Eriksen, Dreyer, Kaufman e Dolberg. Allora ragazzi, di giocatori visti nel mio Road to Victory abbiamo sicuramente la prima punta, Kaufman. Abbiamo sicuramente anche Christensen, il mediano. Ed entrambi sono cresciuti di più di quanto sono cresciuti a me. Anche lo stesso Poulsen, il terzino, io l'ho utilizzato come panchinaro. Per il resto, Mahel non sono mai riuscito ad acquistarlo. Forse il Nordgelland aveva anche più soldi rispetto all'Orsense. Poi vabbè, Eriksen lo conosciamo, io non l'ho acquistato. L'ho provato a trattare, ma mi sa che non ve l'ho neanche fatto vedere. Anche Dolberg costava molto di più, ma alla fine avevo puntato poi più che altro su Fagir. Sono curioso di vedere questo Dreyer. Alla destra, trequartista, 71 di overall iniziale per lui, 72 di potenziale. Quindi l'ha fatto crescere davvero molto. Parte con un'ottima velocità, con un'ottima agilità, un ottimo equilibrio, un buon dribbling. E ha 22 anni, tre stelle vere, devo le tre mosse, abilità. Interessante questo giocatore. Io non l'avevo neanche messo mai a seguire. Vedete il bello del Road to Victory? Che addirittura si può fare con la stessa nazione e si può addirittura acquistare quasi sempre giocatori diversi. Per crescita andrei a cercare anche Andersen. Non vorrei forse qualcuno della primavera, ma non lo so. Eccolo qua, Magnus Andersen. Giocatore del Nordgelland. 21 anni. Centro campista centrale che tu hai trasformato in trequartista. In realtà, cioè non l'hai trasformato, ma l'hai semplicemente sistemato lì. 70 di overall iniziale, 72 di potenziale. 21 anni. Alcuni dati già discreti. La resistenza intrigante. Quindi questo mi fa capire che può essere anche un giocatore da mettere davanti alla difesa. Non lo so. Comunque come mezzala, un po' anche box to box potrebbe starci. Non ha una grandissima velocità scatto, ma ha una buona accelerazione, una buonissima agilità. Con questa resistenza effettivamente potrebbe farti anche un po' avanti e indietro. Anche questo giocatore io non l'ho neanche mai messo a seguire. Quindi interessante, molto molto interessante. L'ultimo giocatore che mi interessava vedere di questa formazione titolare è Maxo. E sinceramente, vedendo chi è questo Maxo, secondo me hai fatto un mini miracolo. Perché ragazzi, parliamo di un difensore centrale di 26 anni. È già difficile farlo crescere fino a 85. 64 di overall, 66 di potenziale. Discretti dati difensivi. Un difensore centrale comunque ha una buona forza fisica, una discreta elevazione. Anzi, un'ottima elevazione. Però insomma, guardate il suo esagono, è stranissimo. Difensivamente e fisicamente è effettivamente un mostro. Un difensore centrale. Il resto, malissimo. Non lo conoscevo. Non l'ho neanche mai messo a seguire. È intrigante però. È fatto un ottimo lavoro. Pazzesco veramente come... Se ci pensate ragazzi, allora... Jensen, Maele, Maxo, Jensen, Paulsen, Andersen, Dreyer, Eriksen, Dolberg. 9 giocatori non sono gli stessi che ho utilizzato io. Quindi fantastico il Road to Victory. Veramente, veramente fantastico. Abbiamo poi un altro Road to Victory, questa volta di Spal Ferrara. Ciao, Menzo. Questa carriera è un Road to Victory con una squadra danese. Ho quindi acquistato solo giocatori danesi. Sono all'inizio del quinto anno e mi servirebbe se riesco un consiglio in porta. Purtroppo in Danimarca di portieri ce n'è ben poco. A vari giocatori ho cambiato ruolo per esigenza, ma si sono rivelate ottime scelte. Vorrei consigliare particolarmente Lindstrom, Friendroop, che ho fatto arrivare a tipo al 94, e Christensen. D'accio, un saluto, se vedrai questo messaggio. Andiamo a vedere la titolare. Non è questa la titolare. Andiamo a vedere la titolare. Non è questa la titolare. Andiamo a vedere la titolare. È questa la titolare. Come mi sono comporato io per i portieri? Con i portieri, ragazzi, c'era poco da fare, in realtà. L'unica cosa che si poteva fare, ed è anche un consiglio che vi voglio dare, ragazzi, è quello di non puntare mai su portieri troppo vecchi, dai 27 in su, perché difficilmente potranno salire tanto, ma soprattutto sono quei portieri che vogliono giocare. E quindi, come mi comporto adesso io nel Road to Victory con i giocatori esperti che vogliono giocare? Io li vendo subito, perché tanto so che non mi potranno mai praticamente arrivare alla fine e sfrutto o i talenti e gli do spazio e basta, o semplicemente... cerco qualcuno nella primavera, come ho fatto poi con l'Horsens, se non ricordo male. Io il secondo anno l'ho portato su e gli ho dato subito la titolarità senza... se senza mai il portiere esperto dell'Horsens l'ho cacciato subito, perché sennò voleva giocare e mi faceva scendere l'overall allenatore. Schmeichels, secondo me, ti dovevi liberare di Schmeichels subito. E dare più spazio, per esempio, a Hermansen, che comunque, Hermansen è un portiere del Brondi, 19 anni, 60, 70 di potenziale. Questo è un calciatore che se lo tieni lì, bom, 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 gli dai piani di crescita, lo fai sempre giocare, aspetti due, tre, quattro anni, questo è uno dei portieri che poi si sblocca e può diventare un futuro fenomeno. Adesso, purtroppo, con il portiere c'è poco da fare. C'è veramente poco da fare. Puoi andare a vedere Inversen, puoi andare a vedere Jensen del Nordgelland o Christensen dell'Odense, però c'è ben poco. Ti consiglio di utilizzare la primavera, anche se è forse un pochettino tardi. Per quanto riguarda il resto della formazione, abbiamo Paulsen, Nelson, difensore centrale del Copenhagen, anche lui, per esempio, non l'abbiamo mai neanche messo a seguire nel nostro rotto victory. Maxo e Christensen, Fredrup, Olsen, Dreyer, Lindstrom e Dharami. Mamma mia, Dharami prima punta lì così. Andiamo a vedere Lindstrom, l'ho messo a seguire spesso nel mio Road to Victory, ma non sono mai riuscito ad acquistarlo. Eccolo qua. È un trecortista, centrocampista centrale del Brondi, 20 anni, 69 di overall iniziale, 82 di potenziale. Devo dire, niente male, questo giocatore è molto veloce, con un discreto dribbling. Io lo vedo anche abbastanza bene in quella posizione, ti dirò. Per il resto, in panchina, vedo che hai Kaufman anche te, vedo che hai Ross anche te. Attenzione, perché vale la stessa cosa poi per i difensori centrali. Se Manxo magari non ti cresce molto, forse era il caso di dare importanza a Ross. Tanta roba quel Baden-Frederiksen di proprietà della Juventus, ragazzi. L'ho messo a seguire, ma non era cresciuto e quindi l'ho lasciato stare. In panchina, ai Söndergaard, anche lui forse era da far crescere, come Deer, che conosciamo benissimo. Mentre questo Ciukwani, anche lui, poteva crescere moltissimo, ma se non lo spingi all'inizio, questo ragazzo, se non sbaglio, ha 17 anni, dopo fa molta, molta fatica a prendere punti overall. Sono giocatori che non comunque crescono troppo. Sicuramente in queste carriere, ragazzi, un altro mio consiglio, oltre a quello di sbarazzarsi dei giocatori più esperti, perché se no vi fa le storie, è quello di utilizzare spesso la primavera. Investite sulla primavera, magari dal primo o dal secondo anno, anche se utilizzate tutto il budget, perché è importante. Qualche talento prima o poi cresce, ci fate i soldi e poi potete andare ad acquistare gli altri. Tanto in Road to Victory, in queste nazioni, dovete far conto che ci metterete sempre dalle 6 alle 8-9 stagioni. Passiamo al carriere natore di Gisapa Greck. Ci ha fatto questa carriera con il Nord Jelland, usando i consigli che avevi dato nel video. La carriera è durata 7 anni e si è conclusa con la vittoria della Champions League. Gioco a leggenda ha modificato la difficoltà per renderlo più difficile. Ok, andiamo a vedere un'altra carriera con il Nord Jelland. Christensen in porta, Caboret, Nelson, Östigard e Tychosen. Christensen, Diomande, Andersen, Atanga, Sulemane e Fagir. Questo non è un Road to Victory, ma ci si avvicina molto. Anche perché Caboret lo conosciamo e non è di certo un nordico. Tycho Zen non lo conosco. Innanzitutto la formazione titolare è bellissima. Veramente, veramente molto, molto bella. E come potete notare il portiere è sempre uno con l'overo un pochettino più basso. Il resto è cresciuto davvero molto, molto bene. Questo terzino non lo conosco assolutamente e sono molto curioso. Ed eccolo qua. Maz Dor Taikosen. Terzino adesso difensore centrale danese. 23 anni. 68 di ovaro, 62 di potenziale del Nord Jelland. Eccolo qua. Non so come faccia ad avere 23 anni. Sembra ne abbia almeno almeno 10 in più, ma questi non sono affari miei. Esagono che si sviluppa più sulla parte fisica e velocità piuttosto che quella difensiva. Quindi è un terzino che, nonostante possa fare il difensore centrale, predilige, secondo me, la spinta sulla fascia. Per il resto, Diomande direi che lo conosciamo. Fagir, Sulemana, li abbiamo già visti sia nel mio Rotto Victory che nelle altre carriere allenatore. Interessante può essere Atanga che hai fatto arrivare al 87. E stiamo parlando... Vorrei farvi notare la velocità di questo Atanga. Che praticamente lui si mette un motorino sotto al culo e poi vola. E poi vola. Cioè, 20 anni. 65 di ovaro, 63 del potenziale, del Sinsinnati. 89 di accelerazione, 89 di velocità scatto, 86 di agilità, 84 di equilibrio. E ha pure una... No, adesso discreta resistenza no. Però è tutta velocità. 64 di finalizzazione può migliorare. E dovete assolutamente migliorargli la finalizzazione e quindi anche il piede debole e le mosse abilità. Perché a quel punto diventa una bestia. Essendo alla destra, poi magari se volete rientrare il piede debole è sempre meglio migliorarglielo. Anche perché è più semplice, secondo me, migliorargli la finalizzazione con ala invertita piuttosto che il cross. Secondo me, cabore tanta roba. E come sostituto, Chitolano, se preso all'inizio, Chitolano può fare, secondo me, bene. Tra l'altro, Chitolano è di scuola, se non sbaglio, Wolverhampton. Eh, ragazzi, il Roberto Victory Nordico dà queste emozioni. Molto, molto bravi, ragazzi. Un piccolo consiglio. Io non l'ho provato Nelson, ma ho provato Ostigard. Ostigard, veramente, veramente tanta roba. Il nostro amico Andreundici mi manda una carriera allenatore... Una carriera allenatore... Non riesco a capire la squadra. Lincoln, ragazzi. Comunque, abbiamo Mancini in Porta, Mendes, Portius, McCrory, Heikey, Noiaus, Ferguson, Rashford, Greenwood, Rabichich e Edward. Potrebbe essere una squadra scozzese, ragazzi. Detto questo, la formazione titolare iniziale è mostruosa, devo dire. A parte il giocatore che spicca per overall più basso è Mancini. Sinceramente, penso sia un giocatore creato dal gioco o comunque della primavera, perché non ci sono portieri che si chiamano Mancini. Mendes, sulla sinistra, fenomeno, come lo è Heikey o Ikey. Portius e McCrory, penso che comunque li conosciamo. Ci sono tre scozzesi qua, Heikey, McCrory, Portius, anche Ferguson. Centrocampo con Ferguson, Noiaus, beh, devo dire che secondo me passa poca roba. Greenwood e Rashford, forse, ti dico la verità, li avrei evitati. Vedere McLennan titolare sarebbe stato più bellino, giusto così, per avere qualcosina di più particolare come carriera allenatore. Ah, è Laberdeen, forse, ragazzi. Ah, sì, è Laberdeen. Infatti McLennan è un giocatore dell'Aberdeen. Esterno destro, o alla destra arretrata, proprio dell'Aberdeen. 66 di ovvero iniziale, 20 anni, 78 di potenziale, 3,3 stelle. Buonissima accelerazione, difensivamente fa cacarissimo. Quindi io, ragazzi, lo terrei proprio lì al posto di Rashford. Da migliorare sicuramente la finalizzazione, il cross, il dribbling. Però, per quanto riguarda la velocità, non è male. Pecca di agilità, quindi potrebbe risultarvi un pochettino... Pecca in agilità, quindi potrebbe risultare un pochettino macchinoso. Però, per il resto, non sembra un cattivissimo calciatore. Io avrei dato spazio a lui, se devo essere sincero. Per il resto, Edward non è sicuramente scozzese, ma è un attaccante del Celtic. Io spero che questo sia un giocatore. Penso, secondo me, che questo... No, dai, non può essere un giocatore che esiste veramente, ragazzi. Perché esiste un Kasim Rabihic, 27 anni, 65 di ovvero, 65 di potenziale. Non può essere lui, quindi hai scoperto. Probabilmente è il tuo giovane talento. Rabihic, forse è il giovane talento. Per il resto, in panca, hai Gold. Ryan Gold, un tempo, era veramente, veramente devastante questo ragazzo. Poi si è un po' perso. Intrigantissimo anche Haji. Haji, che secondo me può fare pure l'esterno. Quindi hai la sostituzione sulla destra o sulla sinistra. Qualche giovane della primavera. Gilmour o Gilmour. Non male, anche Tiago Dantas. E poi ti sei imbosso molto, molto bene con la primavera. Perché guardate qui. Fotishek, Hardy, Zabu. Quindi devo dire che la copertura te la sei presa dalla primavera. E hai anche McKennie, quindi niente male. Bravissimo anche con Garcia Marin. E Pellegri come sostituto di idee. Eduarda che ce lo vedo bene, sinceramente. Può essere il sostituto giusto. Però anche per caratteristiche fisiche, forse, mi verrebbe da dire. Direi che possiamo chiudere con la carriera di KUFU 2007. Ciao Mezzo, ti mando le foto della mia carriera di KUFU 21. Dammi qualche consiglio. Scusami. Ma fra, ma che consiglio ti devo dare? Levati dalle balle Neuer. Metti il titolare Maximiano. È ancora scandaloso che non sia titolare Maximiano con 95 di overall. Teo Hernandez, Diaz, Koulibaly, Juan Bissacca, Guimaraes, Neves, Gonsalves, Torres, Fatih e Ozyman. E io sinceramente, io onestamente, cioè, che consiglio potrei darti? Che consiglio potrei darti? Questa cosa mi fa molto ridere. Ma guarda, sì, io ti direi, guarda. Sono contento che hai tenuto Gonsalves. Svecchia un po' sta formazione. Via Rodriguez, via Hazard. E pigliati qualcun altro. Cosa vuoi che ti dica, fratello? Che forma ormai questa formazione qui è arrivata, alla fine. Devi aver vinto tutto per forza. Va bene ragazzi, vai. Per oggi ci fermiamo qui. Abbiamo visto parte dei vostri Road to Victory in Danimarca. Qualche giocatore interessante anche oggi ce lo siamo studiato. Mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate del Road to Victory che ho fatto e anche di questi Road to Victory che abbiamo visto. Continuate a mandarmi le vostre carriere, ragazzi. Purtroppo siamo ancora all'inizio di febbraio con quelle che sto guardando in questi video. Io le guardo sempre tutte. Vado in ordine. Dal 1 gennaio 2021, guardo le carriere che mi avete inviato, le metto sempre nel video anche se sono classiche. Anche se ci diciamo proprio due chiacchiere al volo, le metto sempre. Quindi dal 1 gennaio in poi io adesso sono all'11 febbraio, considerate. Quindi devo recuperare ancora tutti questi mesi. Io ci sto provando ma siete veramente in tantissimi. Tantissimi. Detto questo, signori, per inviarmi le vostre carriere, il mio nome PlayStation Network è Menzerik, con la K finale. Se volete inviarmele invece perché giocate da PC o da Xbox, mandatemele su Instagram. Però purtroppo non le potrò inserire nel video, chiaramente, perché dovrei andare a spostare tutti i file ed è impossibile. Se le becco su Instagram vi risponderò personalmente. Voi inviatemele e se quando la sera non lavoro o ho un po' di tempo libero, cercherò di rispondervi. Mi raccomando ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video. Se non vi piace, commento, consiglio e alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.